Valerio Scarponi Sì, continua a stringersi intorno a Matteo Messina Denaro proprio stamattina intorno alle 6 Laura Bonafede è finita in manette la ricorderete, era già stata attenzionata dalla procura vediamo la foto quando pochi giorni prima dell'arresto di Matteo Messina Denaro era stata immortalata in un fotogramma da una telecamera di sorveglianza di un supermercato mentre parlava col super latitante è accusata di favoreggiamento e procurata in osservanza di pena con l'aggravante di aver agevolato cosa nostra ebbene, vediamo anche le immagini del suo arresto girate stamattina dalla testata giornalistica regionale della Sicilia prontamente intervenuta sul posto vedete la maestra elementare di 55 anni mentre viene portata via dagli uomini del ROS prima in macchina, poi in caserma e infine in carcere dobbiamo darvi conto di quanto lavoro stanno facendo gli inquirenti secondo loro la signora Bonafede ha permesso e favorito per diversi anni la latitanza del boss con diversi accorgimenti celando la sua identità con degli pseudonimi e anche occupandosi di alcune cose della sua vita quotidiana come per esempio facendogli la spesa inoltre, sempre secondo chi indaga emerge una relazione avvenuta fra i due tra il 2007 e il 2017 relazione talmente intima che avrebbe portato i due a convivere e con loro sarebbe andata anche la figlia di lei all'epoca 15enne non sappiamo quanto di questo sappia il marito di Laura Bonafede che all'ergassolo da diversi anni per due ferati omicidi commessi nel 1993 proprio su mandato, su ordine di Matteo Messina Denaro in tutto ciò Martina Gentile, classe 1992 la figlia di Laura Bonafede ormai è cresciuta, non ha più 15 anni sembra, sempre secondo la procura che sapesse perfettamente con chi avesse a che fare tanto che si sarebbe instaurato fra i due un rapporto quasi filiare e che ha permesso anche di scambiarsi diverse lettere sempre sotto pseudonimo io vorrei leggervene un piccolo passaggio lei scriveva che immensa gioia poterti abbracciare è stato bellissimo mi sono sentita protetta, importante, felice non so spiegarti non sapevo cosa fare, cosa dirti ti avrei voluto dire di darmi un passaggio per farti mangiare a casa utopia, incredibile come ci abbiano tolto tutto infine va detto il PM per la ragazza aveva chiesto gli arresti domiciliari il giudice per le indagini preliminari non ha consentito quindi al momento è ancora in libertà a differenza della madre resta comunque indagata per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena dalla Sicilia è tutto